La I serie D continua con Casale Prato, una buona visione da Pepe Di Giovanni e l'ottava giornata del round 2. Un Casale che è in classifica a ben 15 punti, frutto di 5 vittorie e 2 sulle sconfitte. In grande difficoltà il Prato, una vittoria e due pareggi, 4 sconfitte. Siamo partiti con il primo possesso per il Casale. Manovrato in mezzo al campo. Con calma Micià, poi il pallone recuperato dai giocatori del Prato con Bassano. Il recupero di Zammillo che ha grande qualità. Zammillo la fa subito vedere, pallone in profondità. Poi ancora la gestione ottima del pallone con il destro che viene sporcato, poi il sinistro. Palla messa direttamente in calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Casale. Quando siamo al quarto minuto di gioco, subito riversata nella metà campo avversaria. La formazione del Casale, palla messa fuori e recuperata. Vediamo se c'è un destro. Si, arriva, viene deviato. Ancora in calcio d'angolo per il Casale. I minuti sono 6. Il risultato è ovviamente 0-0. Altra gestione, sempre con Zammillo. Ruleta. Zammillo prova a resistere. Gli toglie palla Bassano che cerca Akamadu. Rimessa al laterale per il Prato vicini al giro di Boa di questa seconda regular season, di questo secondo round della E-Serie D. Occhio a Bassano che rischia. Deve pettinare il pallone per uscire dalla pressione. Se la cava spostandosi sulla sinistra. Il Prato esce palleggiando da una situazione di grande difficoltà. Akamadu. Buon lavoro. Può andare, adesso faccia la porta. Ci sono compagni che possono ricevere. Pressing a tutto campo del Casale che ha recuperato palla. Gestione del pallone in mezzo al campo. Il pallone è giocato in profondità. Apertura sulla sinistra. Buono, il movimento in aria si fa vedere anche Zammillo. A partito il cross, altro pallone per Zammillo. Colpo di testa chiuso. Prova a uscire il Prato. E ce la fa alla fine spazzando lunghissimo. Servizio in profondità ancora. Insiste. Calcia! Trovando un gol meraviglioso. Il Casale. Un gol fantastico. Ancora una volta di Spinoglio. Che sta decidendo un sacco di partite. Destro fulminio di Spinoglio. Che spacca la porta per l'1-0. Bellissima la conclusione. Praticamente dal nulla. È riuscito ad andare sul destro e calciare. Il pallone è ancora recuperato. Il servizio profondo per Zammillo che è più veloce dell'avversario. Zammillo! Pesso giù. Occhio! Cartelino rosso. Cartelino rosso per Kozak. Fallo da ultimo uomo. O comunque è chiaro occasione da gol. Punizione per Spinoglio. Traversa portiere. La palla resta lì. E la recupera del portiere. Sotto di un gol. Sotto di un uomo. Il Prato. Tutto in pochi istanti. Adesso comincia veramente a essere durissima per il Prato. Spinoglio. Zammillo. Ha aperto a sinistra. Poi prova a uscire il Prato. Che però viene pressato altissimo dai giocatori del Casale. Stavolta ce la fanno i toscani a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. Ma morde a centrocampo il Casale. Che dopo l'1-0 sta dando spettacolo in questo match. Zammillo. Ricordiamo che il Prato è in dieci per l'espulsione di Kozak. Palla dentro. Zammillo può evitare il portiere. Che va in uscita. E gli toglie la possibilità di calciare. 1-0. Ma Campanelli d'allarmi altissimo per il Prato. Akamadu. Messo giù. O meglio toccato duro. Si prosegue per il vantaggio. Vantaggio con il Prato. Che adesso esce bene dal forcing. Difesa 5. Quella del Casale. Pallone recuperato. E poi lancio profondo. A cercare il doppio scambio. Però c'è l'intervento difensivo dei giocatori del Prato. Orfani di Kozak. Espulso per il fallo su Zammillo. Per gestire il pallone in zona d'attacco il Prato. Cerca di andare alla conclusione. Alla fine esce bene il Casale. Lo fa con un servizio profondo. Occhio perché si spalancano le porte del contropiede. A Spinoio di esterno. Buon pallone. 4 contro 4. Arriva il destro. Che perfetto. Finisce sul primo palo. 2 a 0 per il Casale. Altro golasso dalla distanza. Barberis. 2 a 0 al 32 con Barberis. Akamadu perde un altro pallone. Casale che sta veramente volando sul Prato. quest'oggi. Allora cambio gioco. Con il pallone servito da Barberis sulla fascia. In area sul primo palo. Spinoio di testa. Non un gancho. Prato che però fa veramente una fatica incredibile a uscire. Chiaramente poi. Partita che dopo l'espulsione sta diventando proibitiva per i giocatori del Prato. Casale che veramente ha una forza offensiva. Difende con 5. Attacca con 5. È vero che a volte è spezzato in due. Però con questa qualità dei 5 davanti è veramente letale. Gestito il pallone da Bassano. Apertura a sinistra. Il pallone è in profondità. Vediamo se arriva il cross. Colpo di testa da lontanare. Non ancora il Prato in manovra. Bassano. Akamadu. Finta buona. Destro sul fondo. Una deviazione. Calcio d'angolo. 42 in corso. Partito il corner. Messo fuori. Prova a reagire il Prato. Fa ancora col possesso di palla. Ma c'è l'ottima schermata difensiva del Casale che riparte con Zammillo che diventa imprendibile quando accelera. Zammillo prende il fondo. Due in aria. Zammillo si è fermato. Gioco di gambe. Buono servizio. Destro! Per il gol del 3-0 del Casale. Gran lavoro. in rifinitura di Zammillo. E assist per il 3-0 di Miccoli. Al 45. È praticamente già mission impossible per il Prato. Rimettere in piedi la partita. 2 di recupero. Assegnati dal direttore di gara. Stanno di fatto già scadendo l'ultima azione del primo tempo con Zammillo. Accelera. Zammillo si ferma. Palla dentro. Spazzata via dalla difesa del Prato. K8. 3-0. È un uomo in più per il Casale. 8 tiri a 1 in un primo tempo dove c'è stata poca storia fra le due squadre. Anche se il possesso palla sorride al Prato. Io ovviamente ringrazio i nostri sponsor Italgreen, Macron, Italtelo, Doxer, Unione Stampa Sportiva Italiana, Corriere dello Sport, Tutto Sport e Radio Kis-Kis. Akamadu viene chiuso. Riparte il Casale con Miccia che cerca centralmente Barberis. Poi Zammillo. Gioco di gamma. Ancora lui. Zammillo in aria. Spazzano via i difensori del Prato. Si diverte il Casale. E si vede. Il pallone è recuperato dalla difesa toscana che prova ad uscire saltando il pressing a 5. Lo fa con qualità adesso. Akamadu. Chiuso. Occhio perché è 3 contro 1. Occhio che Zammillo è andato. È velocissimo. Zammillo. Va. Si ferma. Buono il servizio. 4-0. 4-0. Passaggio illuminante di Zammillo per il 4-0 di Spinoglio. Non poteva fallire uno come lui davanti al portiere. Palla sanguinosa persa dal Prato. Insomma... Poco da fare per il Prato nella partita di quest'oggi. Miccia. Totisco. Aperto a destra dove c'è Zammillo. Altra finta di Zammillo in versione Assismen oggi. Spinoglio in aria. Chiuso. Undicesimo del secondo tempo. E 4-0 per il Casano. Una partita che non ha mai avuto storia. In questo pomeriggio. Ottava giornata. Della E-Serie D. Iniziativa della LND. Iniziata in tempi di lockdown. Che sarà... Che terrà a banco per tutta l'estate. Palomino intanto recuperato da Bassano a centro campo. Uno scarico. 1-2. Akamadu. Riceve. Buono il lavoro di Akamadu. Che però poi perde il contrasto con il diretto marcatore. Esce il Casale. Palla per Zammillo. Era una buona idea. Troppo frettolosa però l'esecuzione. Con l'uscita del portiere. E allora ripartenza per il Prato. Colpo di testa. Il pallone che resta lì. Il recupero di Miccia. Cerca Todisco. Zonatiro. Todisco dentro. Zammillo. Prova ad andarsene. Vince un rimpallo. Zammillo. Chiuso ancora una volta. Pallone recuperato. Il Prato prova a uscire. E lo fa con buona qualità. Poi recuperato il Casale quando ci afficidiamo all'ultimo quarto della partita. Gara saldamente. In mano al Casale. Appoggio per il destro da fuori. Non è un gran che. La parata del portiere. Sessantanovesimo. Cerca di uscire a Kamadu. Che veloce. Vuole il sostegno di Bassano. Lo cerca. Bassano si è già però ricomposta. La retroguardia del Casale. Palla dietro. Lancio lungo. Ancora Bassano. Gestisce tutto con il Mancino. Cerca un pallone filtrante. Chiude però la difesa del Casale. Che riparte. Alla piccolo trotto. Palla però persa in zona difensiva. Subito recuperata. Giocata su Zammillo. Che non ha un controllo felice. E allora ancora a Kamadu. A Kamadu in aria. A Kamadu. Un gioiello. Quello di Kamadu. Che trova l'incrocio dei pali. Rendendo meno amaro. Questo incontro per il Prato. Bellissima. La giocata in assolo. Uno contro tutti. Una difesa del Casale. Un po' allegra nella circostanza. Per questo gol del 4-1. Ancora Bassano. Insiste a Kamadu. Se ne va a Kamadu. Messo giù. Calcio di punizione. Vediamo se lo batte veloce a Kamadu. Invece lascia respirare la squadra. Salgono i giocatori del Prato. Che vogliono cercare di finire increscendo la gara. Fino a questo momento ci stanno riuscendo. Palla dentro. Una buona giocata. Bassano. Palla messa in corner. Adesso è il miglior momento della partita. Per il Prato. L'uscita del portiere. Che in due tempi riesce a bloccare il pallone. Sammillo va a occupare l'aria. Il pallone è giocato largo a destra. C'è l'ottima chiusura difensiva. Fallo. Ma si prosegue per il vantaggio. Cerca di uscire il Prato. Lo fa ancora con Bassano. A Kamadu. Ha tagliato in verticale. Bassano lo cerca con una buonissima idea. A Kamadu. Vuole andarsene. Vediamo se mette il cross. No. Rientra bene. Ancora all'indietro. Può andare con il sinistro. Bassano trova l'intervento molto buono nel portiere. Altro corner. Battuto. Primo palo. Messo fuori. Poi traffico. Un limite dell'aria. Esce il Casale. Addirittura 4 contro 3. C'è un'autostrada clamorosa per Barberis. Che calcia! E non può sbagliare il gol del 5 a 1 per il Casale. Contropiede perfetto. Con il Prato totalmente sbilanciato. Alla ricerca del gol del 4 a 2. Il gol di Barberis. Per il 5 a 1. Che seppellisce la partita. Partita che comunque era ovviamente già chiusa. Pallone in avanti. Tutisco. L'otta. Arriva Barberis. Che fa un gioco di gambe. Calcia col destro. Trova il portiere. Calcia d'angolo per il Casale. Che ha tirato tantissimo in porta. In questa gara. In partito il cross di Zammillo. Traffico destro ribattuto. Si salva la difesa del Prato. Novantesimo. Rimessa. Giocata corta. Recupero difensivo del Prato. Che forse avrà a suo favore l'ultima azione della partita. Servizio. Leggibile per Miccia. Cerca Zammillo. Fa sedere un uomo. Zammillo. Ruleta. Zammillo. Limite. Servizio. Poi cerca di liberarsi al tiro il giocatore del Casale. Ma finisce qui. Finisce 5 a 1 per il Casale. Una partita senza storia. Che era già 3 a 0 nel primo tempo. Grazie da Pepe Di Giovanni. E alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.